Bene amici comincia un'altra giornata super stress soprattutto per me perché oggi guardate qua la maglietta si girano un sacco di test drive, è un mesetto più o meno che ne pubblichiamo pochi perché stiamo provando tante macchine addirittura 4 e quindi oggi vai sotto a provarle di cui un paio anche molto molto interessanti e oggi passeremo tutta la giornata insieme a lui ma guardate quanto è bello, guardate quanto riflette praticamente uno specchio, uno dei telefoni preferiti da Chiara dai andiamo, vediamo quanto dura la batteria e quanto duro io e ovviamente visto che devo prendere la macchina, foto al bunker dove testo ricezione e ovviamente le foto praticamente al buio ma quale sarà la prima macchina di oggi? vediamo un po' vediamo un po' beh prima di tutto svetta il TriCity che sto provando per una settimana intera, stamattina lo abbandono ma guardate cosa c'è là dietro si ok il colore non si può guardare però sotto il colore è quanti cavalli? GTS pronti al rombo? non lo so, non ti seguo, mi sono già perso mamma ragazzi che macchina peccato che abbia passato tutto il viaggio dell'andata praticamente al telefono non me la sono goduta, vabbè tanto adesso giriamo il test drive e l'Xperia non si sta comportando male, 88% di batteria ma uso stress stamattina e io scendo dalla macchina per salire, no per salire l'ennesimo video l'ennesimo video bordo non stai facendo però ci sta, scusa guarda non mi vedi in pandan, a me in pandan col macchina e a te in pandan col Codiac ma abbiamo la stessa maglietta nera, pandan di che? ma pandan dimensionale guardami dai basta pirlate andiamo a lavorare mi hai convinto, è proprio la tua macchina sta Codiac ma quanto ci stavi comodo? ma molto comodo, sicuramente meglio che in quel rottame lì si rottame, guardate cosa andiamo a provare adesso il Macan o la Macan? è il Porsche o la Porsche? io che sono milanese chiamo il Porsche il Macan anche se la Codiac ha più senso si ok ma parliamo del Sony, 82% sono quasi le 11% e sotto il sole beh sotto il sole il display si vede bene a parte la ripresa che forse soffre un po' di riflessi mentre il Bordos fa il tamarro all'interno della macchina facendo le riprese al sistema infotemi di questa GTS io tra un test drive e l'altro controllo le mie 100.000 mail che saranno arrivate vediamo un po' come va beh fluidità ragazzi con l'835 proprio non c'è il benché minimo problema veramente le applicazioni si aprono in un secondo grande, grande fluidità unica cosa che con una mano ragazzi un po' padella, è un po' difficile da tenere in mano e anche la Porsche Macan è andata e adesso dalle stelle alla Tipo Bordos la Tipo che bello il gruppo FCA ha ricominciato a darci le macchine ti vedo felice di provare questa Tipo Station Wagon Turbo Diesel però col cambio automatico è doppia frizione e ovviamente nella Tipo ripasso le caratteristiche tecniche prima del test drive pronti attacchiamo le telecamere ma io ce l'avevo la 156 così però era turbodiesel e non erate tutta su con lo scotch appunto ma che scotch ma la Tipo non esaurisce il test drive di oggi Bordos aspettami 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 barbara la devo provare anch'io le ibridi sono al mio pane Bordos figa è sempre a farmi gli scherzi lo fa apposta più siamo in ritardo più fa il pistola va bene nel frattempo è quasi ora di andare a mangiare quindi direi Bordos che dici? sono in calo di zuccheri fame? dai andiamo a mangiare proviamo dopo Staniro fame? nel frattempo le solite mille notifiche la batteria è al vediamo un po' 66% eccolo lì 66% sono le 12.40 direi che è proprio ora di andare a mangiare però quello che c'ho in mente io non riesco stai ascoltando Cattelan ma di proposito perché sei capitato sul rally dj sono capitato sul rally dj ma dai a me in realtà Cattelan mi dispiace c'è una cintura aspetta Bordos dai non è così male tu che lavori sky com'è dietro le quinte Cattelan offline ma dai dicono che sei simpatico ma è simpatico un bravo ragazzo brufiè brufiè adesso devi ripeterla col cazzo un bravissimo ragazzo bastardo bastardo un bravissimo ragazzo ho il ramarico di non averci mai lavorato insieme confido che il futuro ci darà la possibilità di farlo ma in che posto romantico ti ho portato Bordos guarda il canto quasi a lume di candela col fiorellino se mi viene con una boccia di vino però venuta con i fagioli fritti tomino vabbè ragazzi so che questa cosa al ristorante non si fa però devo controllare i commenti non abbiamo mai tempo troppi test drive beh come vedete browser decisamente veloce quale avrà la faccia migliore? la mia vellutata totomino Bordos vincelatura di faccia inimitabile e qua in un ambiente così bucolico con i campi alle nostre spalle cosa ne pensi di questo Xperia XZ? che poi non è vero guardate passano un sacco di macchini siamo in mezzo alla strada cos'è lo specchietto per truccarsi? eh esatto è una funzione in più è una funzione premium aspetta è lo specchietto per abbronzarsi meglio straordinario ciao Bordos ciao buon giro ciao e poi i casi della vita arrivi a Montevecchia con un Maccan GTS e te ne vai da Montevecchia in un turbini in un tornado perchè la macchina è parcheggiata sotto al sole abbassiamo un po' la racconizionata se no veramente non si capisce più niente su una Fiat Tipo che ha comunque il suo perché è un tipo o forse una Tipo vabbè dai si torna a casa la giornata mica è finita nè per me e nemmeno per lo specchio e caro box lo so che stanotte hai avuto un rapporto con la Maccan ma a questo giro devi accontentarti di un bel tipo no questa non la metto nel video pessima vabbè dai chiudo il box e oggi si prosegue la prova del TriCity eccolo qua vai casco, giubbotto e guanti si non benissimo viste le temperature che ci sono attualmente cambio di camera perchè adesso prendiamo lo scooter in TriCity la settimana è anche all'insieme del TriCity ovviamente sempre qua con me il Sony sarebbe una grande idea questa di avere sia qua la presa 12V sia un vanetto per mettere i cellulari peccato che questo Sony sia un padellone non ci sta nel vano del TriCity non c'è verso di farcelo stare e vai di operazione revival guardate cosa sono venuto a ritirare il Nokia 3310 lui forse ci sta nel vano del TriCity beh proviamo subito questo si che ci sta nel porta cellulare alla perfezione anzi ci va anche largo e si riesce anche a caricare si ci si chiama e basta eh anzi no si può giocare anche a Snake la giornata volge al termine sono le 17.48 adesso riprendo la tangenziale e volo verso casa non vedo l'ora di abbracciare Gabri Chiara e e smettere di provare tutti questi mezzi a motore voglio andare un po' al parco giochi si a divertirmi con Gabri nel frattempo vi dico la batteria sta reggendo molto bene perché siamo al 31% con oltre 3 ore di schermo acceso ma questo voi probabilmente lo sapete già se avete seguito il live batteria e ragazzi ce l'ho fatta ho battuto Google Maps però adesso sono le circa 19 la giornata è stata veramente dura pesante stressante anche un po' divertente ma da adesso la giornata diventa privata beh oddio mica tanto perché se avete seguito il live batteria sapete comunque cosa ho fatto ma la telecamera si spegne qua vado da Gabri dalla famiglia a rilassarmi un po' ciao ciao ci vediamo alla recensione completa ciao ciao Grazie a tutti.